Si parla di questi parklet, c'è la polemica con il centro-destra, con la maggioranza, voi parlate di pasticcio, di annunci, di scadenze, di proroghe, perché? Ma è un grande pasticcio, perché i parklet in tutta Italia sono stati regolamentati anche in questa fase, ma non solo, di pandemia, perché possono essere degli strumenti che consentono ai pubblici esercizi di avere spazi senza togliere spazi ai pedoni sul marciapiede. Ebbene, questa aggiunta prima li ha autorizzati per consentire ai bar e ai ristoranti di avere un po' di spazio in più all'esterno, poi si è accorto che non li piacevano più e quindi ne ha chiesto le rimozioni di quelli autorizzati. Poi ha fatto un regolamento per autorizzarli fino al 31 ottobre, bocciando le nostre proposte che chiedevano di prorogarle almeno al 31-12 perché era ragionevole e di regolamentarle in maniera stabile. A qualche giorno della scadenza del 31 ottobre ha deciso di cambiare idea ulteriormente e quindi di provare a prorogarle al 31-11 dicembre, facendo mali conti con i tempi e quindi rendendo dei fatti abusivi per qualche giorno dopo il 31 ottobre. Poi, dopo che ha presentato una proposta di delibera per prorogare al 31-11 dicembre, si è resa conto che forse quell'atto che lei stessa ha fatto era sbagliato. Guarda, davvero siamo nella presenza di un colossale passiccio che sta mettendo in difficoltà più di 30 operatori che non sanno a questo punto se sono abusivi o meno e come fare per essere in regola. Questa vicenda dei parquet è una carella interna alla maggioranza perché è un passiccio prodotto dall'intera maggioranza che è tutto il centrodestra che ha bocciato le proposte di buonsenso e di prorogare la scadenza di questi strumenti. Dentro quel partito c'è ormai un'esplosione vera e propria come in tanti altri pezzi della maggioranza. Questa è un'aggiunta ed è una maggioranza che alla prima vera prova dei fatti dopo la pandemia è già esplosa. Siamo molto preoccupati perché anziché governare la città si stanno trasformando in guerre per bande e stanno utilizzando i temi dei cittadini e il lavoro delle persone per farsi la guerra di potere e di correnti ed è veramente una cosa che ci destra molta molta preoccupazione.